e ormai è andata raga bravi bravi stasera su youtube zoomata zoomata che orecchie zoomata si trasporta in un alto missile con circuiti di mille valdole tra le stelle sprinta e va mangia libri di cibernetica insalate di matematica e a gioca su Marte va Lui respira nell'aria cosmica, è un miracolo di elettronica, ma un cuore umano va Ma chi è? 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 Si trasporta in un altro missile con circuiti di mine vagole, tra le stelle, spinta e va Lui respira nell'aria cosmica, è un miracolo di elettronica, ma un cuore umano va Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? Un'attività che sembra un pulmini, è protetto da scuri termici, sentinella lui ci fa. Quando scaccia un fusante magico, lui diventa di pergalacico, lotta per l'umanità. Si trasforma in un altro missile con circuiti di miglia d'alco e tra le stelle spinta e va Pugolovò, 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 Pugolovò Pugolovò, Pugolovò Pugolovò, Pugolovò